Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nell'ultima puntata delle Iene di ieri sera, è stato presentato un servizio emozionante su Asia, la ragazza di 14 anni che non sono combatte contro un tumore, ma deve anche affrontare l'odio sul web. Su Instagram, Asia ha ricevuto numerosi messaggi odiosi, ma ha trovato sostegno in Maria De Filippi, la conduttrice televisiva che ammira profondamente. Maria De Filippi, per dimostrarle il suo supporto, ha inviato un messaggio audio ad Asia tramite Gaetano Pecoraro delle Iene. Questo gesto ha avuto un grande significato per Asia, che ha trovato conforto nel sostegno di una figura pubblica così importante. Nel messaggio, Maria De Filippi ha detto, Ciao Asia, sono Maria, la signora bionda con gli occhiali che vedi il sabato sera. So che sei forte, suoni il pianoforte e hai parlato di te sui social, dove ti hanno scritto brutte cose. È successo anche a me, succede a tutti. Ci sono tanti deficienti in giro, ma non devi fermarti, devi provare a ignorarli. Non spetta a te, ma ad altri, intervenire per fare in modo che queste cose non accadano. Spero di sentirti presto. In bocca al lupo, forza. Visibilmente commossa, Asia ha ringraziato De Filippi e ha dichiarato sorridendo, non ci credo. La solidarietà dimostrata da Maria De Filippi sottolinea l'importanza di combattere l'odio online e sostenere le vittime. Evidenziando come il supporto di una figura pubblica possa fare una grande differenza.